La quiete di Fanano è stata frantumata da un brutale femminicidio consumatosi nella notte fra Natale e Santo Stefano. La vittima, 61enne di origine ucraine, si chiama Natalia Kirichok. Il carnefice di 80 anni è il marito Vito Cangini, fino a Natale del tutto incensurato e da ieri arrestato per omicidio volontario dopo aver ammesso ogni responsabilità in merito all'uccisione della moglie nella loro casa di Fanano di Gradara. Una casa dove si è consumato il delitto con Cangini che ha ucciso la compagna sferrandole almeno quattro coltellate al petto. Il movente, la gelosia e soprattutto il rifiuto ad un rapporto sessuale la sera di Natale da parte della donna. Secondo la ricostruzione dei primi interrogatori degli inquirenti, Natalia avrebbe rifiutato un amplesso e l'ottantene si sarebbe accanito con cieca ferocia sulla donna lasciandola senza vita. Natalia era in Italia da più di 20 anni e lavorava come cameriera in un ristorante di Misano Adriatico. Da 17 anni era sposata con Vito Cangini e proprio il titolare del ristorante ha ricevuto nel tardo pomeriggio di Santo Stefano una telefonata dallo stesso Cangini dove l'uomo raccontava che Natalia non sarebbe venuta al lavoro perché l'aveva uccisa. Il ristoratore ha così segnalato la telefonata ai carabinieri di Cattolica e sono subito scattate le verifiche che hanno presto constatato la veridicità dei fatti. I carabinieri di Pesaro e di Gabice si sono infatti presentati nella casa di Fanano dove Cangini sembrava attenderli da un momento all'altro ed è stato lui stesso a mostrare il cadavere della donna riverso a terra. L'ottantene è stato così arrestato per omicidio volontario e recluso nel carcere di Villa Fastigi. La ricostruzione fornita dal medico patologo ha fornito i primi dettagli su una morte che sarebbe sopraggiunta per una cifra compresa fra 4 e 6 coltellate al petto di cui una al cuore e ricostruzione che sarà ulteriormente chiarita dall'autopsia. I carabinieri hanno anche ripercorso il Natale folle di Cangini che ha ucciso la moglie per il suo rifiuto a fare sesso, che ha trascorso la notte dormendo a due passi dal cadavere riverso a terra e ha fatto altrettanto pranzando il giorno dopo. Un Santo Stefano che Cangini avrebbe trascorso anche consumando parecchi alcolici fra casa e alcuni bar del paese. Una giornata in cui avrebbe pure rivelato il delitto ad altre persone, persone che non gli hanno creduto fino al ristoratore che ha dato l'allarme che ha poi scoperchiato il barbaro delitto.